Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo qui con questo nuovo video per farvi vedere chi comunque gioca a salva il mondo Dove si trova come avete visto dal titolo il pub Il pub sarebbe una missione evento dove vi danno uno di tre personaggi leggendari Quindi io in questo caso ho preso questo qua perché mi piaceva il segugio da guerra Però ce ne sono altri due che poi vedrete nelle ricompense Comunque ragazzi prima di tutto vi dico subito che la missione si fa qui Combatti la tempesta a città pietralegno Quindi cliccate qui col tasto sinistro ovviamente e fate seleziona Vi entrerà in una partita ovviamente dove ci saranno anche altre persone Quindi se volete giocare da soli basta che cliccate qui Fate privacy pubblica, la mettete privata e poi fate applica E potrete giocare anche da soli Ma comunque tranquilli non è un problema perché tanto alla fine le persone non possono parlare su salva il mondo Quindi gg Cliccate su lancia ed entrate comunque nella mappa dove andremmo a trovare la No, la no, 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 la, la no No comunque andremo a trovare il pub Ok, ho visto che comunque su youtube italiani che hanno portato questa determinata map Cioè questa determinata missione non ce n'è praticamente quasi niente Ne avrò visto forse uno o due non di più che comunque non specificano cosa succede Perché vi spiego Allora Questa missione Intanto andiamo a eliminare i dialoghi Perfetto Questa missione ragazzi è un po' confusionaria Perché? Perché praticamente se voi entrerete in questa mappa dove vi ho fatto vedere io A volte vi da una mappa A volte ve ne da un'altra Sempre nella stessa Quindi ragazzi dovete cercare di rigioinnare più volte fin quando non troverete appunto la mappa giusta Io adesso vi faccio vedere dove si trova il pub Così che poi voi potrete andare a concludere la missione Quindi questo qui è il punto Vedete qui nella mappa qui sotto Vedete che sto girando la freccetta Qui sotto in basso a destra Dove vedete la freccetta girare Questo è il pub Il pub è formato in questo modo Scritto Joyce Una roba del genere Entrate e vi farà tipo un Un fascio di luce giallastro Come per farvi capire che appunto la missione è completata Adesso ragazzi Posso concludere il video E dirvi Grazie per la visione ragazzi Spero che il video vi sia stato d'aiuto Mi raccomando se non trovate il punto nella mappa in basso a destra Significa che dovete rigioinnare di nuovo la stessa mappa Che ovviamente andrà a random e cambierà Fin quando non troverete questa e appunto troverete finalmente il pub Oh santa pina Un ringraziamento a tutti per la visione Mi raccomando ragazzi Se volete un altro video Su qualche altra missione che non avete fatto E comunque io ce l'ho Vedrò nei commenti appunto Allora vi farò un piccolo tutorial Come continuare quella missione E finirla ovviamente Vi ringrazio ancora per la visione ragazzi Mi raccomando di lasciare 50 like Se riusciamo a arrivare a 50 like Mi fareste tantissimo contento 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 Un bacione dal vostro Dercasonato2 E noi ci vediamo al prossimo video Woohoo